Bene, benvenuti alla seconda tappa, dunque lasciando la facciata di Santa Maria Novella alle nostre spalle, sulla sinistra c'è una piccola strada che si chiama Via delle Belle Donne. Sappiamo che non esiste una Via delle Brutte Donne a Firenze, però ci sono due motivi per cui questa strada viene chiamata così. La prima perché in passato ovviamente questa strada collega la piazza Santa Maria Novella a Via dei Tornabuoni che è sempre stato un po' il salotto buono della città dove vivevano appunto signori di una certa classe e le signore quando andavano a messa ovviamente camminando per quella via e poi andavano in chiesa. Di conseguenza la via è stata chiamata Via delle Belle Donne, questo ovviamente succedeva nel Cinquecento. Nell'Ottocento invece in quella zona lì c'erano le cosiddette case chiuse per i signori e quindi c'erano queste belle donne. Proseguendo per la via troverete sulla vostra sinistra una cosa un po' particolare si chiama la buchetta del vino. Erano praticamente delle vecchie cantine dove si vendevano il vino. I signori ovviamente che abitavano in quel palazzo erano persone molto ricche e quindi avevano loro palazzo in città ma avevano ovviamente anche la casa di campagna dove si produceva il vino. Lo producevano in campagna e poi lo portavano in città e lo vendevano tramite quelle piccole buchette. Se ci fate caso infatti sopra c'è un'iscrizione che ci spiega anche gli orari di apertura e chiusura di quelle buchette. Le buchette vennero chiamate anche tabernacoli del vino poiché una volta arrivato all'orario di chiusura l'oste lasciava fuori un pezzo di pane e del vino per i poveri bisognosi. Bene adesso avete scoperto le buchette del vino guardatevi intorno perché sono su molti palazzi fiorentini. Pronti per la caccia? Proseguendo leggermente più avanti ci troviamo in via dei tornabuoni. Via dei tornabuoni è conosciuta come il salotto buono della città lo è sempre stato e oggi è la via della moda. Infatti là troverete bellissime boutique di tutte le più grandi marche. A momento anche in zona pedorale quindi se volete farvi una bella passeggiata perché no?